Sono almeno 6 milioni le persone che sono state costrette a fuggire dall'Ucraina dall'inizio della guerra, creando un imponente flusso di richiedenti asilo nei paesi europei. Se ne è parlato in occasione della giornata mondiale del rifugiato, in un incontro organizzato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e dalla città metropolitana di Torino, e che ha avuto come tema la guerra in Ucraina e il diritto di asilo. Un'occasione per analizzare gli effetti che la guerra in Ucraina ha avuto sul sistema di accoglienza dei profughi in Europa, ma con un occhio alle sfide future per l'accoglienza di chi si trova costretto a lasciare non solo la propria casa, ma anche il proprio paese. La protezione temporanea è una disposizione già vigente da tempo e che consente ai richiedenti asilo che si vogliono servire di questa forma di protezione, di poterla richiedere rimanendo nel territorio di accoglienza per un periodo di tempo limitato. Questo consente la possibilità di un rientro, appena le condizioni lo renderanno possibile, un rientro nei propri paesi di origine. È importante lo svolgimento di questa funzione della protezione perché con il conferimento dello status di rifugiato politico, di rifugiato, rimane ovviamente il divieto di rientro nei paesi da cui si fugge. La città metropolitana può e deve avere un ruolo divulgativo e quindi può cercare di provocare quella rivoluzione culturale contro il pregiudizio, contro a volte la paura che investe spesso i rifugiati, non soltanto quelli ucraini ma quelli che provengono da vari paesi. Noi dovevamo ricreare da zero organico del Consolato Onorario perché prima avevamo soltanto due persone, ci dovevamo per lo più per dei eventi culturali e ci siamo ritrovati di gestire il flusso di domande incredibili da parte dei nostri connazionali che continuavano ad arrivare in Piemonte in prime settimane di marzo. Abbiamo dovuto fare da tramite tra amministrazione pubblica, vari uffici di questura, prefettura, ASL, protezione civile, di creare un call center con i volontari e di occuparsi di tutte le domande di accoglienza, di anche cura delle persone che arrivavano qui con le esigenze di vario genere e devo dire che mi ha stupito piacevolmente la solidarietà dei italiani. Il popolo italiano è già famoso per la sua accoglienza perché è più da vent'anni che ha quelli profughi di tutto il mondo ma in questa crisi ucraina molti cittadini piemontesi hanno aperto le loro case, hanno fatto delle donazioni incredibili per sostenere l'altro popolo che di fatto molti di loro non conoscevano e grazie a questa accoglienza siamo riusciti ad accogliere più di 10.000 persone in Piemonte tra le strutture di protezione civile e di prefettura ma per lo più per le sistemazioni private. Grazie. Grazie.